Prego, buongiorno. Grazie. Allora, dottoressa Laschena, al di là di queste pratiche infinite, insomma, una richiesta di documenti che è impensabile, persino per un cambio di residenza, come diceva Federico. Allora, è normale che la compagnia aerea per il rimborso si scarichi sul sito di prenotazione dell'intero pacchetto? Non ci sembra normale, insomma? No, non è normale. Il problema è che Ryanair, per una politica commerciale, non riconosce i soggetti intermediari e quindi necessita, per rimborsare il passeggero, della certezza che questo passeggero sia effettivamente lui e che, quindi, diciamo, entri in contatto direttamente con Ryanair. Una volta che il passeggero, però, è stato identificato anche, diciamo, con la certezza che quella sia la sua residenza con la bolletta dell'utenza, eccetera, però ha diritto all'imborso e quindi Ryanair non può invece scaricare sull'agenzia.